Salve a tutti ragazzi, oggi siamo ritornati di nuovo su Fortnite con un nuovo video sui leak Proprio stamattina è uscita l'ultima patch di questo capitolo 3 ormai, la 22.40 E oggi andremo a leggere i leak e le teorie che sono uscite durante questa patch Ok, partiamo subito dalla prelopi perchè i leak sono tantissimi Abbiamo dei nuovi file per l'evento finale e anche sappiamo che l'evento finale si potrà vedere in 40 persone per l'hobby Quindi avremo 40 persone in partita, per ogni partita Ci sarà questa nuova emote che si chiama Salto 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 È arrivata di nuovo la macchina di Rocket League, di nuovo perchè ci sono uscite le nuove sfide di Rocket League su Fortnite E intanto vi ricordo che se non avete ancora finito il pass battaglia mancano 19 giorni a fine season quindi non avete molto tempo Abbiamo proprio qui la macchina di Rocket League che sta facendo due macchine di Rocket League Bene Eh, l'ho visto grazie Ci sono gli oggetti della collaborazione con Rocket League Arrivo Eh vabbè Un nuovo dispositivo in creativa che non ho capito cosa fa però C'è il simbolo di una persona quindi probabilmente sarà qualcosa per i giocatori Eh, pinnacoli per pendenti e adesso è sotto assedio dal cromo come possiamo vedere dalla mappa Qui è la minima mappa giornata che non dovrebbe essere cambiata di molto a parte i pinnacoli E questi primi oggetti della collaborazione con la FIFA World Cup Quindi per i mondiali Abbiamo un nuovo rampino Si chiama rampino glider E non, sostanzialmente non l'ho ancora visto quindi non, non so descrivervelo se è forte, se è utile soprattutto Un'altra schermata di caricamento Poi 800 megabyte è il, il peso del, dell'evento finale quindi, in teoria, aia, aia, aia Dai Mi ho fatto i 25 con il pombo Stavo lanciando fuori la finestra Stavo volando Ehm Nuova schermata di caricamento di Rick e Morty Con nuovi cosmetricamente come al solito dopo l'evento Ci saranno dei tempi di downtime del gioco quindi in cui non potremmo giocarci Ehm Una cosa che magari molti di voi adoreranno La torre dell'orologio di Pinnacoli Ehm Ehm Non è stata assediata dal cromo quindi Ehm Sostanzialmente non è cromata Pronto 20 20 20 Ok 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 La nuova lobby che è esattamente questa qui Con un nuovo piccone Ehm Adesso la nave pirata e la dirigibile sono, sono vicini Non, non so dove Ma sono vicini Ok Ok Builda qualcosa da fuori Ok 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 Quindi apri la scheda in giro Si Nuova skin che è esattamente questa con il nuovo pacchetto di Playstation Plus Quando stiamo per entrare nell'evento Ehm Succederà alla lobby esattamente quello questo qui che state vedendo adesso a schermo Ehm 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 Fosse attratto da qualcosa Ehm 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 Però sappiamo con certezza che ci sarà un Un evento Un downtime dopo l'evento finale C'è un player da me Non c'è più Non vengo più Ehm Ehm Sulla base dei Degli eventi precedenti Il Potremmo Vedere il Diciamo C'è un player madonna Sono Sono dentro Il timer Delle Aia 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 Timer dell'evento Potremmo aspettarci Tra il 22 E il 27 Di Di novembre Lo è unico Lo so Eccolo Dietro Tra i gommi 40 29 Craccata Uno morto Dov'è? Oddio Mi è caduto Il mio finger Non è stato Marco colpi Cicchino Eccolo No Eh sì Ne sono uscito Un botto Ecco il gameplay Del nuovo rampino E' esattamente Questo Che state Vedendo Adesso Probabilmente Dopo Dopo l'evento Ci sarà una modalità In cui potremo Svolgere Le diversi incarichi Guardare il punto zero Da lontano Però Soltanto il punto zero La La mappa Non sarà disponibile Dopo Durante questo evento finale Ci sarà anche un interruttore Di messa a fuoco Del Del punto zero Ok Ce ne sono altri Là in fondo 28 Bianco Atterrato Sto arrivando da te Tutto convinto Atterrato 25 Non l'ho preso Faccio la safe Marta Dietro anche Vado io Marta Dove da questo? Questa è una Le vita Marta Marta Ecco Ho cerrato uno Qui c'è un altro Marta E tu pensi che io Vado verso la safe No questo è morto Probabilmente l'evento Si svolgerà In questa parte Di mappa E Niente Non abbiamo Non abbiamo Altri leak Su Sull'evento finale Quindi direi Che possiamo Finire qua il video E portarci a casa Questa Questa partita Se riusciamo E Sperare di riuscire A restare Nicolò Eh sì Sono morto Sono morto Sono morto Da inizio partita Come al solito Ecco Infatti E io e Marco Abbiamo 20 kit complessivi E io ho 106 E io sarò a livello 106 Uno E io ho 207 Sono dei barili Signor Da me mi interessare A boschetto E Marco Di te ci dovrebbe essere Un player Morto Boh Non l'ho visto Sparano da me Sparano da con i giochi Marco ma è sotto di te il player Ma scusa Ah ma non l'ho visto Ah la macchina Ah ma non l'ho visto Ma è sicuro che non eri tu con la macchina nera Sì con la macchina nero io Allora Allora Eh Ragazzi è riuscito e mi potete restare a boschetto Mercoplayer qua Bello quel manichino Manichino Ma molto bravo Ah tu hai la corona e mi sta pushando una La corona Sì ok io ho la corona La corona Ha sentito che spari Regala la sei fa ripartita Sì lo sappiamo Un geriello dovrebbe aver riscato Morto Occhio E' manichino E' manichino Dai non ci credo Questo ha uno di vita E' morto Ci uratina corona Marco Er lupo Er lupo ongi A un certo punto avevo tutto scarico Devi correre Marco Sì Devi ciorrere Marco ongi Marco hai cini Hai Curati 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 veloce 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 Felice Basta che tu sia felice Basta essere felice Eh ci sono player Marco ongi Come no Io ce l'ho scendito No ma ce l'ho scendito Ce l'ho scendito Ce l'ho scendito 5 Vabbè tutta il peggio Te l'ho scendito Tutta il peggio Tutta il peggio Tutta il peggio Tutta il peggio Mi resta congi per favore Aspetta Meno per favore La 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 Prova a arrestarlo Eh se Ma ci sono player Ah mi congi Aspetta ammazza questo Eh la madonna No Eh Nel Ah Ma cosa è Sto ballare Lì Ha finito Ho finito Tutta da da Tutta da Dov'è Non c'è più 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 Vittoria real Onci Bello Bel video Con vittoria real Incluso 10 kg 16 kg 0 kg 20 Quante hai tu 10 0 26 kg Madono 10 Mi scrivo 10 50 di vita Ok quindi Grazie a tutti La visione Vi ricordo che sono In live Il lunedì Mercoledì Giovedì E sabato Dalle 17 Alle 19 Vi ricordo anche Che ho un canale Di telegram E discord E qui su youtube Ci sarà un video Ogni volta che c'è Una patch Quindi Eh Ogni due settimane Di martedì In teoria E Tranne in casi speciali Quando Eh ci saranno Eventi O altre cose Quindi Noi ci vediamo Dopo il live Oppure Con un prossimo video Un altro giorno Ciao 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 Ciao